T'ho accontentato con quel vecchio Renz che t'ho venduto l'ultima volta, vero? Certo. Che fai? Me lo dai indietro? No, non credo che potrò ridartelo. Pete mi ha detto che stavi usando quel tagliaerba in un modo davvero curioso. Vuoi farla ancora? Lo voglio fare ancora, Tom. Senti, Alvin, so che quando ti metti in testa un'idea, è inutile tentare di fartela cambiare. Sappi solo che ti ho sempre reputato una persona intelligente. Beh, ti ringrazio. Fino ad ora. Di che anno è? 66. Ha un motore Kohler. È usato, ma ho cambiato di volta in volta i pezzi che si consumavano. Il motore è buono. Ha la vecchia trasmissione. Niente di sofisticato. È una buona macchina? È una buona macchina. Senti, Tom, arrivo a 320 dollari. È tutto quello che ho. Per me va bene, Alvin. Andiamo e sistemiamo tutto con Elsie. Ah, un'altra cosa. A volte si può sapere qualcosa di più su questa vecchia macchina se conosci chi le ha usate. Sai di chi era? Certo che lo so. Mia. Allora va bene. Sì. Grazie a tutti. Grazie a tutti.